Buongiorno a tutti, oggi vediamo in azione l'ultimo assetto senza contatto Corgi, Remo 4C, che è l'evoluzione del Remo Compact 2, dotato di quattro robottini con nuove telecamere a maggior risoluzione. Andiamo a effettuare l'assetto andando a lanciare la misura utilizzando un sistema di scansione di un codice QR che viene stampato alla prima volta che la macchina entra in officina e applicato sulla portiera. Andando a effettuare la scansione parte in automatico la misura perché dal codice QR il software va a recuperare tutte le informazioni riguardanti il modello del veicolo, il cliente e il modello del veicolo. Una volta lanciata la misura viene aperta la pagina dove vanno inserite le dimensioni del pneumatico perché la dimensione del pneumatico è fondamentale per una misura corretta. la misura viene presa direttamente dalla banca dati ma può essere modificata se le misure presenti sul veicolo siano diverse. Una volta posizionati i robot andando a premere ok andiamo a lanciare la misura. I quattro robottini sono dotati di due telecamere frontali e una laterale e due laser per la misura dell'assetto ruota andando a ricostruire praticamente tutta la facciata della ruota e andando a calcolare la misura ricostruendo la ruota in tre dimensioni nello spazio. Una volta finita la misura che dura diciamo da un minuto a un minuto e mezzo che è molto più veloce rispetto alla versione a due robot perché chiaramente utilizzando quattro robot vengono fatte le quattro misure contemporaneamente e abbiamo sempre i dati ad assetto delle quattro ruote in tempo reale. A questo punto una volta finita la misura se vogliamo possiamo andare a effettuare la sterzata per poter calcolare anche i valori di incidenza cui andando a accendere il quadro del veicolo andiamo a effettuare la sterzata che può essere fatta da 10 o 20 gradi su cui andando a posizionare il volante al centro aspettando l'acquisizione del centro a questo punto possiamo andare a sterzare 20 gradi da una parte una volta arrivati in posizione ci fermiamo aspettiamo che l'assetto memorizzi il dato a questo punto possiamo andare 20 gradi dall'altro lato e una volta acquisito anche l'altro lato possiamo tornare col volante al centro della scatola. Andiamo a mettere il volante circa dritto chiaramente a questo punto andrebbe bloccato col blocco a sterzo e possiamo andare a visualizzare il nostro riassunto dati che è la pagina con tutti i valori misurati in tempo reale dai quattro robot. Il nostro riassunto ci fa vedere tutti i vari dati per lato sinistro e lato destro di convergenza campanatura e convergenza sia anteriori che posteriori e differenza di sterzata. A questo punto per andare a regolare andiamo a sollevare il ponte e avendo la centralina collegata al computer del remo i quattro robottini vanno a seguire automaticamente il movimento del ponte. Adesso senza arrivare col ponte tutto alto una volta messo il ponte in posizione di regolazione e posizionato il ponte in sicura nelle sicure meccaniche i quattro robottini vanno a riprendere le quattro misure delle quattro ruote. Praticamente questo movimento che viene fatto avanti indietro serve per andare a trovare il posizionamento della ruota. Una volta trovata la ruota il robottino si va a posizionare nel centro del cerchio con le due telecamere e a questo punto parte la misura per andare a calcolare nuovamente i valori di assetto. Una volta calcolati i valori di assetto a ponte alto siamo pronti con la regolazione e il software entra in automatico nella pagina di regolazione. Pagina di regolazione chiaramente prima pagina di regolazione dell'asse posteriore e poi pagina di regolazione anteriore. Una volta fatte le nostre regolazioni se necessarie possiamo andare a visualizzare nella pagina di stampa il nostro report che ci permette di andare a visualizzare i valori precedenti, i valori finali e i valori di stampa. Un'altra possibilità prima di regolare è andare a vedere un aiuto che vi permette come andare a regolare i vari angoli per cui abbiamo delle animazioni disponibili che vi permettono di visualizzare dei filmatini su come agire nei vari regolazioni, nei vari eccentrici della sospensione. Un'altra possibilità che abbiamo con il remo è quella di effettuare una misura veloce di pre-check. Per vedere questa misura dobbiamo terminare questa sessione di lavoro, abbassare il ponte perché la misura di pre-check viene effettuata, per velocizzarla il più possibile, viene effettuata solamente a ponte a terra, per cui dobbiamo abbassare il ponte. Ok, una volta posizionato il ponte a terra, se vogliamo effettuare solamente un controllo veloce di convergenze e campanature è possibile lanciare dalla procedura full una misura di pre-controllo, per cui una misura d'assetto più rapida per controllare solamente convergenza e campanatura. Può essere fatta per entrambi gli assali con la procedura full o solamente per l'asse anteriore. Andiamo a selezionare la procedura full, adesso andremo a inserire il modello di banca dati, prima non l'abbiamo inserito perché abbiamo recuperato tutti i dati grazie alla scansione del codice QR, per cui lanciando la misura full andremo a, prima di tutto, come accessore è disponibile anche il drive on assist che vi permette di vedere con la telecamera la posizione del ponte in modo da salire centrati con la vettura sul ponte. Una volta posizionata la vettura proseguiamo con la procedura, viene aperta la panca dati, da andare per selezionare il veicolo corretto, per cui andiamo su Volkswagen, Transporter, per la procedura pre-check è disponibile sia la banca dati classica, quella che si usa normalmente nella procedura normale, ma per la procedura pre-check esiste una banca dati specifica chiamata Smart, che è una banca dati ridotta, più compatta, dove sono stati uniti tutti i vari sottomodelli con valori di assetto molto simili in modo da velocizzare quello che è la selezione del veicolo. Una volta selezionato il veicolo, durante la selezione del veicolo comunque per guadagnare tempo i robottini vanno a fare la misura del pre-check dell'assetto e la misura è simile alla misura normale, ma molto più veloce perché non abbiamo, abbiamo sempre la misura a terra ed è un controllo veloce solamente di convergenza e campanatura. Una volta terminata la misura, la schermata di riassunto dati è diversa rispetto alla misura normale perché viene aggiunto anche, oltre al colore rosso e verde, che vuol dire fuori o dentro le tolleranze, un colore giallo che vuol dire valori, diciamo, dentro le tolleranze ma non ideali. Questa è la nostra schermata dove vedete che in questo caso viene segnalato un valore giallo per la convergenza anteriore destra. Una volta effettuato il pre-check posso andare a stampare in modo da dare al cliente un risultato e avvertirlo, guarda che sarebbe necessario fare l'assetto, oppure posso anche andare a fare dei controlli visivi, i controlli visivi per andare a fare un check completo del veicolo. In questo caso per fare i controlli visivi è necessario inserire almeno la scheda veicolo con la targa del veicolo, per cui dobbiamo andare a inserire il nostro modello di vettura con la targa, in questo caso Volkswagen. A questo punto, lavorando anche da tablet, possiamo andare a fare i controlli visivi, per cui sono dei check della carrozzeria, delle cinture, dello stato meccanico del veicolo, degli interni, della batteria, andando a inserire anche eventuali note, come qui è già stato inserito, eventuali graffi sulla carrozzeria. Con la possibilità anche di andare a effettuare foto direttamente col tablet e andarle a salvare all'interno della scheda di stampa, inviandole da tablet via bluetooth al computer dell'assetto. Questo è un esempio di foto stata fatta con un graffio sulla carrozzeria. Il remo può essere utilizzato come assetto, chiaramente veloce e senza contatto, per cui nessun contatto col cerchio, ma anche come assetto di precontrollo, effettuando misure di assetto su tutti i veicoli che entrano in officina. Al remo possono essere abbinati diversi accessori, uno il tablet, che abbiamo visto, per utilizzarlo anche per quando si lavora sotto il ponte per le regolazioni, una stampante e la pistola per fare le scansioni e stampare i codici QR, in modo da evitare sempre la selezione del veicolo della banca dati. Un strumento di diagnosi che permette di andare a fare le calibrazioni degli sterzi elettronici, che è il Cal One Touch, è possibile abbinarlo al remo per appunto andare a fare tutte quelle operazioni di azzeramento dello sterzo che sono necessarie, almeno il controllo tutte le volte che si effettua un assetto. E anche il drive on hastys, che abbiamo visto prima, il sistema che aiuta il veicolo a salire sul ponte, è un accessorio. Remo 4C, come già detto, è un assetto senza contatto, robotizzato, che è possibile installare su qualsiasi tipologia di ponte, corghi o anche altri marchi, con ponti a pavimento o incassati o anche per chi lavora a pavimento in buca. È necessario avere uno spazio ai lati del ponte di circa 90 cm per poter installare i binari e i robottini e due metri e mezzo davanti al ponte per poter installare questi due bersagli che permettono le misure reali e precise dell'assetto ruote. È anche possibile per chi volesse installarlo incassato, per cui andando a incassare i due binari dei robottini. Banca dati internazionale con le specifiche dei costruttori. È suddivisa per mercati in base ai continenti e alle aree geografiche. All'interno abbiamo più di 40.000 veicoli ed è costantemente aggiornata. C'è la possibilità anche con un servizio online di scaricare in tempo reale i dati dei nuovi veicoli.